come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità come dico sempre come avete visto dal titolo del video oggi vediamo l'assegno unicom con integrazione su rdc perché pare che l'ins abbia avviato dei pagamenti straordinari che potrebbero arrivare sulle carte rdc di tutte le persone e famiglie già nella giornata di oggi quindi in definitiva stiamo parlando di tantissimi conguagli arretrati molte persone nei mesi scorsi non avevano compilato e poi inviato il modulo rdc per l'aggiornamento dei dati anagrafici e così era successo che l'ins non aveva accreditato gli importi esatti che ovviamente erano spettanti e calcolati proprio in base alla condizione economica arreddituale e familiare delle persone e aveva pagato soltanto una piccola parte addirittura c'era gente che riceveva soltanto 10 12 euro non so se vi ricordate ne avevo già parlato tanto di questa cifra come mai cercavamo di capire avevo chiesto anche a voi di chiamare l'ins di farvi dire magari maggiori informazioni poi molti mi avevate scritto molti manco mi avevate scritto quindi alla fine poi i pagamenti erano rimasti da 10 12 euro però adesso che più o meno tutti quanti finalmente hanno compilato e poi inviato il modulo i beneficiari del segno unico su rdc potranno ricevere le loro spettanze infatti da poche ore sono iniziate le lavorazioni delle mensilità arretrate del segno unico su rdc addirittura da come vi dicevate si parla di mesi veramente molto molto vecchi quindi adesso che ci sono state le lavorazioni di tutte le pratiche di aggiornamento dei dati anagrafici e reddituali nelle prossime ore arriverà anche il pagamento e la conferma addirittura me la state dando anche voi che mi scrivete per avvisarmi che state iniziando a trovare la data di invio disposizioni alle poste per il giorno 4 di maggio adesso mi sposto qua di fianco così vi metto qui qui di fianco la schermattina con un piccolo screenshot della dove si può appunto vedere la data quindi io a questo punto vi consiglio di andare a controllare anche voi il vostro fascicolo previdenziale vedere se sono arrivati o comunque vedete la data di disposizione quant'altro e poi se avete voglia non ci avete voglia e poi fatemelo sapere qui sotto nei commenti così insomma magari c'è qualcun altro che vede anche altre date ecco quindi così ci teniamo tutti aggiornati e chi guarda poi i video guardando leggendo poi i commenti si può regolare quindi capire se arriverà prima se arriverà dopo insomma ci teniamo aggiornati tutti quanti bene con questo video io spero di avervi aggiornati vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e poi come vi dico ultimamente mi raccomando seguitemi su instagram quindi andate su instagram mi seguite no cliccate segui per chi ce l'ha già per chi non ce l'ha è facilissimo scarica l'applicazione la installa si registra facilmente e poi mi segue su instagram perché anche su instagram faccio altre cosine con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre e solo sull'unico canale originale di youtube il mio quello che vi fa i conti in tasca a presto ciao ciao ciao